salve a tutti ragazzi allora oggi volevo fare un tema molto importante allora riguardante pocket option breve breve termine versamenti e tutto il resto allora bonus non ne voglio non usare bonus quindi voglio mettere 100 euro non voglio il bonus ok procedere attenzione un attimo una cosa perfetto allora ok stavo dicendo ci siamo procediamo beh come si versa con scrill allora scrill per scrill ok siccome i siti di opzioni binarie non so perché vengono considerati tipo scommessi online non so proprio perché ma vengono considerati così i soldi di scrill che provengono da una mastercard quindi non possono essere versati direttamente ma devono essere scrill da scrill ora io ce l'ho scrill da scrill e me li fa versare nel vostro caso se avete scrill e non ve li fa fare cosa dovete fare molto semplicemente fate una cosa molto semplice andate praticamente sull'account scrill e li versate ad un'altra account scrill magari di vostra madre vostra sorella ne aprite un altro molto molto semplicemente i soldi che ritorneranno al vostro account quindi state ristornando fate un doppio passaggio saranno soldi scrill da scrill versabili altrimenti vi fate una una ok paga adesso altrimenti vi fate molto molto semplice una una carta scrill che costa 10 euro all'anno ed è molto importante perché potete versarvi ok potete versarvi tranquillamente potete fare quello che volete e da lì non avete problemi quindi vi consiglio comunque di farvi la carta scrill sempre e comunque ok facciamo trading allora qui c'è un'ottima operazione da fare subito in revolution porca miseria euro gbb dai dai fammi entrare fammi entrare ok a 15 minuti che già avevo impostato con la revolution però dovevo farvi vedere questo che se si muove se si muove ok vai 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 a 15 minuti vai non so perché signori io dalle mie parti internet da problemi ogni tanto io veramente qua fa euro gbb ed oggi è una di quelle giornate in cui euro da problemi allora euro gbb dove sei euro gbb dove sei dove sei eccolo qua 81 per cento di ritorno va benissimo ok ok l'abbiamo messo euro gbb adesso dobbiamo mettere 100 dollari ok a 15 minuti quindi 100 sì a 15 minuti ok vediamo un pochino m1 a 15 m15 mi da 13 minuti e 47 mi sta bene ok tutto a rialzo certo certo ok entro ragazzi entriamo perfetto ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo allora cos'è cosa è successo praticamente vediamo un po' questo è la cosa allora praticamente abbiamo fatto questa operazione con 100 dollari in revolution pura bellissima proprio perfetta ho controllato tutto questa qua mi gioco anche la casa su questa qua va bene vi ho fatto vedere il praticamente il deposito pocket option perché molti di voi aveva avuto dei problemi inoltre su pocket option è una piattaforma un po' complicata da utilizzare soprattutto per il breve il breve termine perché come vedete funziona come funzionava l'equo option guardate c'ha praticamente i chi è questo qua sto russo qua c'ha praticamente i le a praticamente le come si chiamano le scadenze fisse non fisse ma le scadenze variabili così come era l'equo option per cui quando noi facciamo il nostro trading in revolution ora a me non mi cambia nulla perché praticamente ad ogni modo la mia operazione durerà o 13 e qualcosa o 15 precisi sappiamo che non cambia nulla ok tuttavia il problema c'è quando noi siamo in un'operazione a 60 secondi è perché per quello è perché alcuni di voi mi hanno segnalato una non perfetta corrispondenza con alcune candele con la meta trader o altre per cui io ve la sconsiglio per i 60 secondi per i 60 secondi utilizzate al pari come si fa al pari al pari avete la la avete negli altri miei video e la conoscete benissimo una grandissima piattaforma però vi ci tenevo anche a far vedere questa pocket option e come vedete signori poi i 100 dollari sono i miei venuti da un conto scrilla intestato a me stesso e versato sic e simpliciter ok versato al momento quindi soldi reali chiaro non stiamo parlando di soldi finti o demo o video registrati come fanno parecchi chiaro soldi reali spero che voi questa cosa la comprendiate la 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 appreziate soprattutto che è una cosa che a me interessa di più poi per il resto a me non interessa ecco qua 11 minuti e 36 e qui ci dice anche quanto sta durando la nostra operazione 2 euro gbb quindi signori i soldi sono reali sono miei e e ce li metto volentieri soprattutto per farvi vedere i video che oggi è una giornata di trading quindi si inizia a lavorare si lavora con soldi reali sul conto al pari non lo vedete perché magari lì è il conto che dico la verità io utilizzo al pari come broker di riferimento quindi al momento il mio top broker è al pari tuttavia capisco che per alcuni di voi può essere un po difficile da utilizzare perché ha il problema dei conti sotto conti non c'è problema però al giorno d'oggi come io ripeto sempre a molti di voi bisogna avere più broker e io ne utilizzo al momento tre che sono pocket option binarium e al pari però quelli che utilizzo di più sono al pari e appunto pocket option trovate i link sotto al mio video quindi vi potete iscrivere se avete problemi di aiuto vi ho spiegato anche come versare con la senza problemi con skrill fate un po di ristorni raga e bisogna ingegnarsi al giorno d'oggi perché broker oramai come prima che ti fanno versare con la carta eccetera ce ne sono ben pochi quindi siamo in un momento in cui dobbiamo anche ingegnarci chiaro ok perfetto perfetto vediamo un pochino la nostra metatrader perfetta eccola la eccola la benissimo 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 mi sta benissimo quello che sta accadendo mi sta benissimo perfetto dicevo altra cosa importante altro avviso ai naviganti è importante mantenersi focalizzati sulla strategia perché quando si ha la certezza e quando si conosce bene una strategia signori poi il resto viene da sé vi ricordo la revolution questo per chi si collega oggi che ha un prezzo di euro 130 con 150 euro vi portate a casa oltre a revolution anche la lezione individuale di un'ora fatta con me sulla revolution è sempre compreso nel prezzo disponibile il video spiegazione della revolution in cui faccio un'operazione tipo questa che poi va bene guarda caso e però anziché farvi vedere semplicemente l'ingresso mi metto lì e vi dico allora qua c'è questo valore a x è fatto un po in modo tale che è da supporto a chi sta studiando la revolution quindi ho fatto anche quest'altra cosa in più per agevolarvi come sempre perché io cerco sempre di agevolarvi in tutto e per tutto e lo sapete molto bene che io cerco sempre di di aiutarvi detto ciò la revolution fa parte del percorso che ho chiamato gotts cioè goal oriented trading system perché è una strategia e molti mi ho continuato a chiedere ma nei video lo dico tutti i giorni anzi a volte di esposto sembrare ripetitivo ma lo faccio perché vedo che c'è la necessità di di come diceva nei latini e i latini ripetita you what è una strategia che si basa appunto su diversi time frame impartire su diversi indicatori il che ci dà possibilità di maggiore successo e di maggiore affidabilità è un grande indice di affidabilità quello degli indicatori utilizzati signori ea noi ovviamente fa molto fa molto bene oltre a questo è l'inizio di un percorso che io poi consiglio continuare con la sala segnali eccola qui che ora vi mostro telegram ecco la telegram web andiamoci subito la sala segnali che è comunque il suggello di un percorso chi ha già la revolution e quindi già comunque fa trading e sa come fare trading praticamente ha la possibilità di iscriversi alla sala segnali 150 euro annuali ma nella sala segnali oltre ad esserci il social trading quindi il confronto e l'assistenza tutto il resto che sono cose ottime abbiamo soprattutto oggi non so internet va così vabbè qui devo collegarmi praticamente 184 176 benissimo ora vi mandare il codice vabbè eh ragazzi 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 cioè cioè guardate qua questa è la previsione a mamma mia che bello che bello che bello è quello che aspettavamo tutti che bello madonna che bello questa è la revolution questo è il bello della revolution a piacere che c'è un video in cui è arrivato perché noi quando noi operiamo in revolution aspettiamo proprio questa cosa qua che arriva e guardate che sta arrivando perché quando abbiamo tutti gli indicatori perfetto come una sinfonia come una aspetta questa e adesso io mi devo godere questi sei minuti molto semplice e mi incasso 80 euro altro che altro che 80 dollari però facciamo una battuta un attimo che vedo su mi accedo a telegram e poi ve la faccio ok ci siamo ok ok sono io benissimo allora ci mettiamo su eccolo qua guardate qui vi arrivano i segnali come vi ho fatto vedere in cui viene scritto operazione numero 3 usd cad ingresso con scadenza 5 minuti direzione cal cioè su usd cad vi arriva anche il grafico voi andate qui controllate usd cad per esempio andiamoci ma voglio non ci vado che voglio controllare qua però controllo se è tutto a posto cioè con quello che la revolution mi dice con i le mie conoscenze pregresse che io devo avere è plausibile io cosa ho fatto anziché mettermi qua a fare il giro delle valute come faccio io come voi sapete che si fa io ho già un segnale che devo solo valutare ed è una cosa un ottimo aiuto e soprattutto chi conosce la revolution lo sa bene che è un aiuto fondamentale lo sa benissimo perché senza di questo naturalmente saremmo lì a fare la il cambio delle valute e poi si è parte di una chat eccola qui di un buongiorno si si parla ci si aiuta e si fanno webinar e poi soprattutto è proprio ideotico a quello che sarà la l'incontro e il corso live che ci sarà a maggio a montecatini terme fisseremo la data breve il primo corso che facciamo quindi live tu per tu vis a vis face to face che la cosa più importante ricordo che la sala segnali per me rappresenta il secondo step del GOTS cioè del goal oriented trading system ok secondo step il primo step è la revolution imparare la revolution studiarla c'è il video e anche chi vuole la vincere in 60 secondi non lo dimentichiamo strategia a 60 secondi appunto che vi fa a questo punto però è un po più rischioso naturalmente e poi abbinata con la revolution però è il top strategia revolution euro 130 guardate qua che perfezione cioè non è che sono state fatte aria queste operazioni e cioè io oggi me ne posso già andare a casa mi posso già ritirare a parte che ci ho diverse cose da fare che non vi non vi dico signori un periodo di però vabbè ci passeremo 80 dollari così ma grazie ma guardate che perfezione cioè è perfetta è perfetta ecco perché faccio trading mi emoziono anche così esco pazzo anche così altro che gli 80 euro che dava Renzi ma che tra l'altro non sono 80 euro è un bonus fittizio che poi viene restituito in dichiarazione dei redditi lasciamo stare lasciamo stare quella persona quel personaggio cosa ha fatto all'italia ma non sono queste le sedie opportune ma ad ogni modo guardate perfetto io già me ne posso andare oggi continuerò però 80 dollari sono circa 70 euro 65 euro e beh e beh oggi già ragionato è fatta già ci si può andare a prendere il sole magari sole di novembre detto questo dicevo la sala segnali è il secondo step per cui per me fatti questi due step voi vi trovereste ad avere una strategia del genere che oramai parla e canta non parla canta da sola 95 per cento di successo e questo è poco ma sicuro basta guardare i miei video oramai sono una memoria storica ed è così e poi si fa parte della sala dove tu lì la mattina anziché metterti a fare il giro delle valute avrai una cosa innanzitutto i sistemi della sala i cosetti bot vi aiuteranno a fare cosa una delle cose più importanti della revolution che a lezione lo facciamo sempre e ne parliamo sempre è il time frame ok molti di voi hanno difficoltà col time frame poi magari ne parliamo a lezione questa difficoltà viene superata però con la sala segnali qua vi viene già detto 30 minuti ok quindi voi non dovete più mettervi a cervellarvi sul time frame semplicemente dovete confrontare il messaggio che arriva il messaggio qui con qui col grafico molto molto semplice quindi si parte dalla revolution vi ricordo la base e poi si arriva a metterci gli altri mattoncini signori una volta che avete questo avete fatto questo percorso per me veramente quindi revolution più metteteci anche la vince di 60 secondi però ve lo ve lo consiglio io e con 200 euro vi portate a casa un corso completo con lezione con video esplicativo questo ve lo e magari poi vi posso mettere anche un video sulla 60 secondi se volete ok quindi per chi acquisterà 60 secondi vi farò un video io a parte da solo a costa 70 euro però poi con la revolution ci sono le varie promozioni in modo tale che voi avete un corso già completo e poi ci metci costruite sopra la sala segnali ma sempre goal oriented cioè orientati all'obiettivo focus oriented goal oriented cioè a fare goal è una strategia operativa perché nella revolution mi viene detto come impostare questi grafici e cosa fare quando come ho fatto io ora cosa fare quando ci sono queste situazioni qua stop non mi viene detto il grafico è una cosa o cose ampollose e trascendentale no è molto semplice comunque scusate un attimo che godiamoci questi ultimi 30 secondi che bello che bello signori che bella operazione che perfezione mamma mia che bello tribolazioni zero già prese in partenza vai e facciamo anche il prelivo perché devo far vedere anche come si preleva siccome con scrille le cose sono talmente rapide che io su pocket option c'ho quasi zero liquidità e la liquidata la tengo sul pari vi sono sincero perché lì giro con carte e con di correnti bancari qui giro con scrille e faccio e vai signori presa 181 81 dollari di di come si chiama di di guadagno netto e soprattutto la cosa bella che volevo far capire questa io i soldi ce li ho messi dal mio conto scrille per questa operazione ce li ho rischiati io e li ho guadagnati io c'è pure la mia foto qua conto live versati davanti a voi calma signori non c'è trucco non c'è inganno e soprattutto non è registrato non è un demo chiaro perché è facile farsi belli con la demo è facilissimo si mettono lì e fanno la demo e ve la costruiscono e ve la fanno eppure ci sono delle persone che fanno i video su pocket option con la demo e ci sono pure i coglioni che si comprano le strategie da quattro soldi ma ragazzi sveglia qua non siamo tutti ciarlatani mi raccomando io voglio che voi guardate questo video di cavolo giovanni ci ha messo ha rischiato il suo sederino ha rischiato il suo sederino perché qua 100 100 dollari oggi se venivano persi erano i miei e io oggi partivo da meno 100 dollari chiaro e dovevo guadagnarmi riguadagnarmi ok quindi 100 dollari non te li regala nessuno al giorno d'oggi cioè voglio dire per cui io questo voglio che venga venga trasmesso ma sapete perché lo dico perché molti di voi e fate benissimo mi mandate mail e messaggi in cui mi dite è giovanni sì sei una brava persona ci crediamo sempre un bravo ragazzo però poi io ho avuto esperienze negative con tizio esperienze negative con caio quelli hanno fatto quello a me non interessa perché qua quelli vi pigliano per i fondelli e ci mettono praticamente le demo vi vendono corsi in cui spiegano tutto il genere umano tutto il trading addirittura sono meglio di che ne so vi spiegano tutto una candela quando è nata la candela il mercato qua no qua si dice l'obiettivo raga fare soldi fare trading e come lo dobbiamo fare quando li dobbiamo fare e come farli questo vi spiega giovanni punto perché giovanni ha un'altra cosa che mi mi ha mi stata non contestata ma mi è stata detta da uno di voi è molto intelligente mi ha detto ma sì mi potrei fidare di te però perché se hai un metodo vincente lo condividi con gli altri non lo tieni per te la prima cosa voi lo pagate non è che ve lo regalo quindi mi sembra giusto prestazione e contro prestazione tutto nella norma ma soprattutto non c'è un motivo per cui io dovrei essere in ho visto interessi con voi se una persona usa il mio metodo e guadagna a me non mi cambia nulla anzi molto spesso capita che lo considero un collega possiamo diventare amici possiamo collaborare possiamo fare corsi insieme live live cioè che significa che ci vediamo a mondegatini e se quello che vi ho detto non mi convince a fine giornata mi dite giovanni restituisci i miei soldi perché ricordo costa 500 euro compreso di pernottamento cene tutto il resto quindi spese non è che non è che sono soldi buttati ma a parte questo mi giovanni dammi i soldi ti sputo anche in faccia lo potete fare non è che ve li rubo e poi ciao arrivederci chiaro ok facciamo questo benetto prelievo sempre per la questione della trasparenza withdrawal eccolo qua con skrill amount 181 dollari mi devi dare tutto fino all'ultimo ok continuo perfetto ragazzi qualche ora e arriverà il deposito come voi come voi avete visto nel video precedente in cui facevo con pocket option questa è la cosa bella di pocket option ta 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 depositi e prelievi immediati ovviamente vi ripeto per i 60 secondi il mio consiglio è al pari non andate su pocket option pocket option utilizzato solo per la revolution chiaro ok detto questo abbiamo già parlato tantissimo le chiacchiere stanno a zero ci vediamo la settimana prossima ciao